A Basciano un tributo a De Andrè, quale sarà il programma del 31 agosto e del 1 settembre? Sì, una due giorni dedicata a De Andrè, appunto Basciano attraverso la Prologo e con la collaborazione del Comune di Basciano partendo dal bilancio partecipato, ossia da un'iniziativa proposta, la stessa Prologo che il Comune finanzia ogni anno delle attività appunto delle associazioni, dei progetti condivisi con le associazioni prevede la realizzazione non solo di due giorni dedicata alla musica di De Andrè ma anche la realizzazione di un totem multimediale da cui sarà possibile ascoltare le canzoni di De Andrè ma anche l'intitolazione di una piazzetta a De Andrè, lo svelamento di una targa così come anche la realizzazione di un murale appunto per vivere a tutto D'Andrè all'interno del borgo di Basciano potrebbe essere solo l'inizio appunto di un'attività di valorizzazione del borgo attraverso dei cantatori.